Carmel, c'è posta? C'è posta! C'è posta! C'è posta! Compratelo, conservatelo! C'è posta per te! Ambrogio! Ambrogio! Mi porti a casa, per favore! Per favore, Ambrogio! Telecamera! Ambrogio mi sta portando a casa! Vai! Ambrogio, stai attento se cado! Vai, Ambrogio! Ciao! Saluto, Ambrogio! Merluzzo! Merluzzo! Mi rispondi? Ascolta, io devo andare in piazza Montegrappa 56! Merluzzo, ma sei morto? Non mi rispondi! Merluzzo è morto!